Il Movimento Io Apro questa mattina ha richiesto alla Regione Marche, al Presidente Acquaroli e all'Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, la rimozione del dottor Umberto Gnudi dal suo incarico di primario del pronto soccorso di Pesaro dopo le gravissime dichiarazioni, si legge in una nota del Movimento, delle scorse ore. L'odio e l'inciviltà narrate nel suo post pubblicato su Facebook in cui dice che gli fanno schifo coloro che non sono vaccinati non possono, hanno dichiarato, e non devono passare impunite. Il Movimento Io Apro è Free Vax, prosegue la nota, rappresenta coloro che si battono per la libertà di scelta senza vincoli alcuni. Gnudi, ieri rivolgendosi ai non vaccinati, aveva affermato, non voglio più avere a che fare con voi, se siete tra i miei amici di Facebook, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi, altrimenti lo farò io. E se venite in pronto soccorso malati, vi curerò, è il mio lavoro, ma senza parlarvi. Sappiate che vi disprezzo, aveva aggiunto, non è una questione di libertà di pensiero, ma di rispetto per la comunità. Non ne avete e non ne meritate, avrete le mie cure al meglio che posso, come sempre, aveva concluso il primario, ma sappiate che mi fate schifo. A richiedere che venga rimosso immediatamente è anche il Comitato Salute e Diritti di Pesaro, secondo il quale le parole di Gnudi sono intrise di intolleranza e avversione nei confronti di quella piccola parte dei cittadini che liberatamente ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, che non è nemmeno obbligatoria. Un dottore, per di più del servizio pubblico, ha scritto il Comitato, non dovrebbe mai esprimersi in questo modo verso una parte dei suoi pazienti, manifestando pregiudizi. Un medico, che ha giurato di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di disuguaglianza alla tutela della salute, non può rimanere a capo di un reparto tanto importante come pronto soccorso. Se Capitano Ultimo, colui che arrestò Rina, avesse dichiarato «Ok, lo arresto, ma sappiate che comunque lo rispetto e stimo, cosa sarebbe successo?» ha chiesto il Comitato. «Vi sareste fidati ancora del suo operato?» e ha concluso «Perché dunque dovremmo fidarci noi della buona fede e della professionalità di questo medico dopo tali esternazioni?»